Signori questo è LG V50 ThinQ, uno smartphone 5G e finalmente ce l'ho tra le mani, adesso ve lo faccio vedere un pochino meglio era da un po' che lo aspettavo, è questo momento di poter provare questo device 5G, come vedete trattiene un pochino le ditate comunque prima di parlare di 5G vediamolo un attimo esteticamente, purtroppo la colorazione è nera io ho il dubbio che sia solo in nero perché l'abbiamo visto solo di questo colore durante la presentazione già un po' rigato tra l'altro, mi sa che è stato un pochetto maltrattato allora, vediamolo un po' esteticamente, bordi, curvi, angoli arrotondati, molto carino la prima cosa che mi è saltata all'occhio sono le tre fotocamere completamente a filo della scocca il che è davvero una bella cosa, le tre fotocamere posteriori sono da 12 megapixel standard f1.5 pixel da 1,4 micrometri poi una wide da 16 megapixel f1.9 e una tele obiettivo da 12 megapixel f2.4 quindi comparto fotografico bello completo qua c'è anche il lettore di impronte digitali, classico la scritta V50 ThinQ in argentata in alto c'è la scrittina 5G, non so se riuscite a vederla perché è appena appena in trasparenza grigetta sul nero quindi insomma è un po' nascosta in basso c'è il logo 5G e tre Pogo PIN che sinceramente non so bene a cosa possono servire anzi lo so perché LG insieme a questo ha presentato anche un sistema che state vedendo proprio adesso che permette di collegare il telefono ad un secondo schermo una sorta di pad dedicata evidentemente al gaming e sicuramente il collegamento avverrà tramite questi tre PIN magnetici o meglio tre PIN elettrici che sono posizionati qua poi in basso abbiamo invece la porta Type-C lo speaker e la porta per il jack audio quindi è stata mantenuta in realtà l'audio è stereo con anche il boombox che fa vibrare tutta la parte posteriore quindi sicuramente l'audio sarà di buonissimo livello sulla parte destra abbiamo lo slot per inserire la SIM il tasto di standby, gestione e spegnimento sulla parte sinistra invece abbiamo il tasto per richiamare Google Assistant sì credo proprio di sì e il bilanciere del volume nella parte alta invece lato pulito con il microfonino frontalmente invece abbiamo un display da 6,4 pollici quad HD si tratta di un OLED 3120x1440 a primo impatto è davvero molto bello ma insomma è nulla di diverso rispetto a quello che abbiamo visto con il V40 finché adesso c'è un simpatico ragazzo che è arrivato proprio attaccato a me a parlare ma insomma andiamo avanti lo stesso questo è il bello di questi incontri display vi dicevo molto bello a primo impatto ma ovviamente le condizioni di luce qua non sono delle migliori quindi è difficile darvi una valutazione comunque insomma dovrebbe essere un display di LG poi all'interno processore Qualcomm Snapdragon 855 quindi già compatibile con il 5G grazie al modem X50 che però vi ricordo non è l'ultima versione che è stata presentata proprio qua durante il Mobile World Congress che è capace di collegarsi al 5G stand alone quindi senza bisogno di passare dal 4G questo passa dal 4G e si agganza poi al 5G e quindi ha anche una velocità leggermente ridotta ma comunque questo è uno smartphone 5G a tutti gli effetti per far fronte alla necessità, alla richiesta maggiore di energia del 5G c'è una batteria da 4000 mAh e che è abbastanza simpatico perché questo è comunque uno smartphone abbastanza piccolo e vi ricordo che sul V40 e sul G7 e in più gli ultimi due top di gamma insomma le batterie erano abbastanza piccole appena superiori ai 3000 qua invece arriviamo a 4000 per la cronaca pesa solo 183 grammi quindi abbastanza contenuto 159 x 76.1 x 8,3 mm di spessore quindi un telefono tutto sommato abbastanza compatto anche dunque andiamo a dare uno sguardo all'interno del software non vi ho detto che la fotocamera frontale è doppia 8 megapixel e 5 megapixel invece leggermente grandangolare ma non c'è qui la tecnologia Z camera la Z camera che invece c'è sul V8 T-Q che vedrete in un altro video sempre sul canale che andremo a caricare tra poco la LG UX sembra sempre la solita anche perché è veramente la novità interessante di questo device in realtà proprio il suo 5G quando avremo in Italia finalmente anche nelle grandi città operative al 100% la rete 5G potremo vedere la capacità effettiva di questo smartphone di portarci in un mondo completamente nuovo dove andremo veramente a velocità stratosferiche e potremo collegarci tutti insieme allo stadio alla rete senza vedere intasamenti IoT, insomma un sacco di cose legate al 5G tra l'altro in questi giorni stiamo pubblicando sul sito anche degli approfondimenti tecnici e anche però pratici sul 5G quindi magari vi lascio qualche link in descrizione che potrebbe esservi utile invece per il momento direi che è tutto con questo LG V50 Team Q noi ci vediamo come al solito ai prossimi video qui dal Mobile World Congress 2019 continuate a seguirci ciao